Ciao, voglio invitare tutte le compagnie dialettali e amatoriali della Sicilia a partecipare al Gran Galà del Teatro Dialettale nella città di Castelbuono, dove c'è anche una splendida compagnia amatoriale, sono i frastornati dal teatro della passione, chissà, vi saluto cordialmente. Credo che le compagnie amatoriali sono molto importanti perché sono la palestra dove si allena il nostro talento, la nostra passione per il teatro, il primo gradino, quindi sono molto importanti e fondamentali per provare a cimentarci con questo lavoro. Per i più giovani e anche per i non più giovani, è anche un modo bello di stare insieme in maniera intelligente tra persone che condividono la passione per il teatro. Quindi buon Galà e fatemi sapere com'è andata. Ciao!